Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo signori Allora, allora signori, l'ultima volta nel video c'eravamo un attimino, vi avevo chiesto se dovevo prendere un giocatore, ovvero il nonno Miura oppure no Ma prima di partire col video, io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al mio canale e alla serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Maullo941 in cui vi aggiorno quando escono i video e sulle live che andiamo a fare E vi ricordo anche di seguirmi sull'altra piattaforma, quella viola, quella degli streamer in cui ogni tanto anche lì facciamo qualche live, comunque mi trovate anche lì Detto questo signori, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video Ok signori, allora nello scorso video vi avevo chiesto se dovevo prendere il nonno Miura oppure no Ho avuto delle risposte positive per andare a prendere il nonno Miura, quindi adesso proveremo a portarcelo a casa, anche se non giocherà mai Però lo mettiamo lì in panchina, bello tranquillo, con le sue artrosi, sta seduto, non rompe le scatole a nessuno Un altro giocatore che mi avete suggerito è un certo Tourgate, che andiamo a vedere un attimo Noi ricordiamo che possiamo fare solamente un acquisto esterno l'anno, quest'anno ancora non l'abbiamo fatto Vediamo un attimo, perché mi avete detto che Tourgate è forte Tourgate, no, con la G, Angus, Tourgate, 20 anni, dovrebbe essere lui Allora, chiedi di seguire, aggiungiamo una lista di mercato Andiamo a vedere quanto può valere questo, perché noi non abbiamo neanche una lira signori Vediamo se riusciamo a portarcelo a casa lui, eventualmente ripieghiamo sul nonno Miura Il giocatore si è appena trasferito, niente da fare signori Tourgate, Angus, il nostro Angus ci è saltato sul filo del rasoio Ce lo teniamo per l'anno prossimo, eventualmente, se abbiamo bisogno di un centrocampista forte Ce lo teniamo per l'anno prossimo Andiamo a prendere Miura, signori, contatta per acquisto, vale 15.000 euro Ma di che stiamo a parlare? Vale 15.000 euro, va bene, va bene Vediamo, vediamo cosa riusciamo a fare Oh, guardate che bellino, papo maullo Offerta per il cartellino, vale 15 Te ne do 13 Dai, la trattiamo così, te ne do 13 Te piace? Te piace 13? Oh, subito, così, proprio, stiamo venendo a sbarazzare Subito, neanche l'hanno trattata Ce lo stanno portando con la carriola, signori Con la sedia a rotelle ce lo stanno portando Va bene, andiamo a trattare Andiamo a trattare, va bene così Ce lo stanno portando proprio a spinta, sulla sedia a rotelle Dai, nonno Miura Dai, il nostro, la nuova, il nostro mascotte Lui prende 850 di budget, di stipendio Ok Ehm, turnover? Potrebbe piacerti il turnover? Non ci siamo, vuole essere importante Già, arriva a rompere le scatole Va bene, nonno Sarà importante Ti diamo anche la coppola Due, un anno? No, magari due anni, zio Ah, nonno, magari due anni Ok, due anni ci siamo Perfetto Ignoriamo la causa recissoria Vuole 15880 bonus di ingaggio Contro-offerta Modifica lo stipendio 1200 Facciamo 1200 E 800 No, 1200, dai Voglio essere buono Te li levo da qua e te li metto da là Dai Te gusta così? 1552 Va bene, accettiamo Va bene, nonno Va bene, nonno Miura Signori, abbiamo preso nonno Miura Guarda che contento Guarda che contento Con la sua sedia a rotelle Correrà lungo le fasce Per cercare di trovare un gol Il nostro Kenzo Come si chiama? Kenzo, Kenzo Kenzo, Kenzo Come si chiama? Kenzo, Kenzo Kelly, Kelly Allora, fermi tutti Andiamolo a mettere in panchina Sempre titolarissimo Allora, tre titolari Andiamo a modificare gli schemi di squadra Allora, importa Mendes Poi abbiamo Gibson Percival Pringo, Saladino Slow Allora, al posto di Slow Via Slow E mettiamo Miura Che è un 59 Signori Mamma mia Mamma mia Perfetto Ok, vuoi salvare? Sì Salva le modifiche E andiamo anche a modificare La squadra dei panchinari Dove stanno i panchinari? Lo mettiamo anche lì in panchina Il nostro Stocco nelle Smith Leviamo le Smith E mettiamo il nostro simpaticissimo Miura Bella così Salva Perfetto, signori Abbiamo fatto un grande acquisto Quando si dice proprio fare Gli acquisti quelli sensati Quelli giusti Mi è piaciuto Mi è piaciuto Gli allenamenti abbiamo 3A Quindi simuliamo tutto E andiamo avanti Come se non ci fosse un domani Chiudiamo questo Mese di gennaio Sì Ah, ci sono probabilmente Abbiamo fatto il nostro acquisto Il nostro acquisto Stagionale L'abbiamo fatto Allora, siamo in campo Noi siamo Che posizione siamo? Siamo secondi E 56 punti Il South for City E 10 punti Sopra di noi Ma è una partita in più No, siamo diventati terziori Terziori E 56 punti 55 Contro il Newport Contro il Newport Giocano i titolari Ovvio No Giocano i titolari Abbiamo detto Contro il Newport Facciamo giocare i titolari Dai così Portiamoci 3 punti a casa Signori Facciamo contento Il nonno Miura Attenzione Fuori casa Contro il Newport Che fanno i gamberetti? Vincono 2 a 1 Grandi ragazzi Gol di Mellor E Wilding Va bene così È entrato? Dove sta? Valutazioni È entrato Nonno Miura Boccona Che è entrato? No Sullivan Giardino E Smith Mendes Gibson Perso Il 25 penso sia Miura Il 25 penso sia Miura Signori Perché dicono È un nome impronunciabile Il nostro Miura Ha un nickname impronunciabile Quindi penso sia lui E va bene così Dai 3 punti Ci siamo portati subito a casa Ultimo giorno di mercato Facciamo uno scorrere velocemente Tanto non abbiamo L'Inter ha comprato Zagaria Ok Real Madrid ha comprato Melinkovic Savic Per 124 milioni di euro Young Boys Ha comprato Kaussi Guardate che simpatico Miura Spera di migliorare Allora è esordito Miura Ci ho capito nulla Ma è entrato Miura Non è entrato Boh Non l'ho capito signori Non l'ho decisamente capito Però va bene Però va bene così Dai Miura ha sperato di migliorare Dopo il brutto esordio Quindi è esordito Miura Boh Le informazioni date a metà Ampadu è passato all'Atalanta Tokstad è passato a non so quale squadra Vi aggiorno sulle ultime notizie di mercato Signori Concludiamo velocemente questa sezione A noi non arrivano offerte Questa cosa mi fa veramente piacere Quindi i nostri giocatori non piacciono a nessuno Tante belle cose Ancora ha intervistato il nostro nonno Miura Che non aveva più neanche il fiato per parlare Ci è andato con la bomba all'ossigeno A fare l'intervista Ci è andato con la bomba Chi è quel Takagi? Chi era Takagi? Fantastico Allora Re 2 squadra da primavera Va bene Aggiornamento Oh Aggiornamento degli osservatori Dalla Scozia con furore Abbiamo Oliver Wright 53 71 16 anni 120 Seguiamolo ma non mi dice niente Luis Jack 61 83 190 16 anni Continuiamolo a seguire Vediamo cosa esce fuori Arthur Cochrane Portiere 67 89 Questo non sembra male Questo non sembrerebbe male Continuiamolo a seguire Dalla Scozia sono arrivati buoni giocatori Seguiamoli Seguiamoli Poi abbiamo l'altro osservatore Darl'Irlanda Abbiamo Joseph Hart 56 72 Questo lo buttiamo fuori Non ci interessa più Martin McQuillan 46 64 Mamma mia Inguardabile No Quello col caschetto Lo voglio Signori Joshua Porti 61 85 Questo lo continuiamo a seguire No col caschetto Non mi era mai capitato Signori 51 71 Lo mandiamo via Catlan McNeigh 68 92 Questo è interessante 68 92 Potrebbe promettere bene 16 anni 220 Questo ce lo portiamo Già subito dentro Joshua Lo continuiamo a osservare Il nostro Joshua E infine abbiamo Schmidt Che dall'Inghilterra Ci porta solamente Albert Coward 17 anni 64 88 Ma Lasciamolo ancora a seguire Anche se non mi ispira Completamente Ultimo giorno del mercato Suggerimento per la scelta Non ci interessa E la squadra giovanile Andiamo a vedere un attimino Appunto la squadra giovanile Signori Andiamo a vedere un attimino Nella squadra giovanile Abbiamo un TS Stevens Barclay Ok Barclay Barclay Scott James McNamee McNamee Catlan Va bene Lo chiameremo Catlan N.S.I. Che è un esterno sinistro Aidan N.S.I. Barrett è il nostro Benjamin Ok Esterno destro Esterno sinistro Buono 52 Va bene Così Buono Dobbiamo farlo crescere A questo E Scott Che è l'attaccata Che è già diventato un 54 Noi ne abbiamo promosso uno Ma non mi ricordo chi è Forse McNamee O Barclay No Barclay non può essere McNamee Lui è Catlan McNamee 68 92 Sì Che cos'è? Un CDC Dovrà cambiare il ruolo Questo Se vuole scendere in campo Se vuole scendere in campo Con noi Dovrà cambiare il ruolo Posso modificargli Piano di crescita Vediamo Se li posso già modificare il ruolo Ruolo Perfetto Mi devi fare il CC Zio Senza ombra di dubbio 55 settimane E impara a fare il CC Mi servirai di più lì Bravo E poi invece Aspettate un attimo Mi stuzzica Benjamin Mi stuzzica Benjamin Che può fare Sia l'esterno destro Che l'esterno sinistro Però esce come esterno sinistro Però c'ha il piede destro Sulla Come siamo combinati Con gli esterni Un attimo Voto mentale Noi abbiamo Giardino e lo Sullivan Titolari Ok E poi abbiamo Giardino Pringles Che c'ha 32 anni È inguardabile Perfetto E sulla destra invece Abbiamo Sullivan E McCree Ok Che McCree promette abbastanza bene Sullivan c'ha 27 anni McCree ne ha 17 E' buono Quindi io direi che Il nostro Benjamin Lo possiamo fare In un esterno sinistro Ma già lo è esterno sinistro Perfetto Niente Ok Abbiamo il sostituto Per Pringles L'anno prossimo Andiamo avanti signori Questi allenamenti Non li abbiamo fatti Miura Vabbè Simuliamo tutto Sì 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 Va bene Dai Pidiamolo a D Ma non fa niente Tanto c'è miura Va bene così Va bene così Andiamo avanti signori Giochiamoci magari Un'altra partita Ci siamo persi un attimino A chiacchiera A chiacchiera in questo video Simuliamo velocemente Andiamo andiamo Siamo secondi 58 punti E il Starforce City E prima 67 9 punti di svantaggio Va bene Va bene Questa la giochiamo Conto Sto attraversando Un buon momento McCree McCree è fra i panchinari E vabbè Facciamo giocare i panchinari Questa partita signori Tanto siamo secondi Quindi Comunque siamo Siamo in buona zona promozione Quindi va bene così Facciamo giocare i panchinari Prima che si offendano malamente McCree Ok Pian di crescita Non è cambiato nessuno Dai così Scendiamo in campo Contro il Bolton Ok Simulazione veloce Slow e Aladino In attacco Con Miura Pronto a subentrare Che famo Pareggiamo 1-1 Gol di McCree Proprio lui Proprio lui signori E' uscito Stockholm E chi è entrato Aladino Ok 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 va bene Va bene 1-1-1 che non ci fa Bene Diciamo Erano migliori tre punti Però va bene così Dai Va bene così Grazie mister La ringrazio La ringrazio La ringrazio Va bene Andiamo avanti Fino alla prossima partita Così ci vediamo in mezzo Tutti sti allenamenti Dai così Esci Dai vai avanti Va avanti Va avanti Quando è la prossima partita Dai Stiamo a fare solo allenamenti Che rotture le scatole Dai 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 Che è miglior Rowey Non conosco nessun Rowey Ci prometto come giocatore Il miglior giocatore Di 2 mesi di gennaio Best for city Contro la squadra rivale Org Town Il punto a testa È Maregambo E Bolton Ok Arriviamo alla prossima partita Che è quella con Mellor vuole giocare Che è quella contro Il Tranmere Il Tranmere Sembra squadra francese Il Tranmere Il Tranmere Siamo sempre secondi Attenzione signori Guardando la classifica Si fa interessante Perché siamo secondi Con una partita in meno Rispetto No Siamo terzi Perché mi confondo Colchester Siamo terzi Con una partita in meno Ma Con una partita in più Rispetto a Colchester Ma una partita in meno Rispetto al Salford Ok Il Forest Green Che è sesto È a 53 punti Con una partita in più Va bene Mi sono confuso un attimino Però ci siamo riusciti Ci siamo capiti Detto questo signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella ragazzi Ciao